Ciao creatura, io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cosa I, I, S, M, A. Siamo qui, buona domenica intanto, siamo qui oggi, questa sera, a vedere altri due capitoli della regina di cuori, decisioni, capitolo 8, capitolo 8, futuro mentore, il giorno della sfida si avvicina mentre tutti si preparano per la propria battaglia, per le proprie battaglie. Il giorno dopo, è il giorno prima della prova di spada, tu e Ethan vi state esercitando nel cortile, dai un colpo e togli dalle mani la spada Ethan, wow, non me l'aspettavo, chiedi una ricompensa, ringrazio. Ciao, chiedi una ricompensa. Dov'è la mia ricompensa? Cosa vuoi? Sorprendimi. Isan si avvicina sorridendo, ti darò l'ultima cosa che ti aspetti, sinceramente sono stupito, sei migliorata molto, credi che abbia qualche possibilità? Lo spero tanto. Immagino di non avere molte possibilità di vincere, non con questo atteggiamento, mi piace essere realista, ecco tutto, tutte quelle ragazze hanno molta più esperienza, non si aspetteranno la tua protezza. Sono più veloci di me, sei più metodica, saranno tutte rilassate e quella sarà la loro disfatta. Non si aspetteranno la tua bravura. Perché mi vai contro? Perché mi vai contro? Perché non sopporto sentirti così negativa. Ethan si blocca. Fissandoti, con un piccolo dolce, il tuo cuore batte contro il petto. Ethan, hai dimenticato di spiegarti come funziona la prova? Oh già, certamente. Allora, ad ogni round avrai una lady contro cui combattere, quindi potrebbe essere chiunque. Sì, la vincitrice sarà con lei che sconfiggerà ogni altra donna. Spero di trovarmi con delle principianti. In ogni caso, avrai alcuni avversari facili e alcuni difficili. E poi, dovrai vincere tra battaglie e se le vincerai tutte, arriverai in finale. In finale? Se ti troverai nel girone di Rosetta, vincerai, non c'è dubbio. Con tutte le altre hai una possibilità. In ogni caso, se dovessi farcela, la sfiderò nella finale. Sì, ma arrivare in finale sarebbe un'impresa incredibile. Stai ancora imparando? Immagino di sì. Bene, questo è tutto ciò che devi sapere. Vuol dire che l'allenamento è finito? Ho paura di sì. Mi mancherà tutto questo? Anche a me. Ma sono combattuto. Cosa vuoi dire? Se sposi il principe potremmo continuare le lezioni? Ma se sposi il principe mi spezzerà il cuore? Oh, quanto me ne frega. Ti blocchi. Travolta dalla sua confessione improvvisa. Ethan si avvicina e prende la tua mano. Voglio che tu sia felice. Ma ho bisogno di sapere per la mia sanità mentale. Provi dei sentimenti per il principe o per me? Jonathan. Il mio cuore è di Jonathan. Jonathan. Che è un altro? Ethan fa un cenno arretrando rispetto alle tue decisioni. Mi dispiace, Ethan. Non devi scusarti. Se cambiassi idea sai dove trovarmi. Friendzone. Fai un cenno abbracciando velocemente Ethan. Ti stringe forte la sua faccia spinta sul tuo col. Ci vediamo domani alla prova di spada riposa. Torni dentro. Lasciato dietro un Ethan afflitto. Eh, sticca. Però, già, io sono coerente. Anche se Jonathan, però noi abbiamo il nostro piano adesso, il regno lesbo, quindi dobbiamo sposare il principe per poi farlo fuori. Ti imbatti in Rosetta mentre torni nella tua stanza. Sei pronta ad essere sconfitta nella prova di spada? Vincerò. Sarà una battaglia a darmi pari. Facciamo un esborone. Vincerò. Ho in mente di vincere. Ah, sì? Assolutamente. Non mi poterei mai. Sono la donna più veloce del reame. Di certo non sei la più intelligente. Come osi. Pianci quanto vuoi, Lady Rosetta. Beh, non che tu abbia qualche possibilità. Perché no? Ho un trucco molto speciale nella manica. Cosa vorresti fare? Niente. Non mi freghi. Ti tengo d'occhio. Ah, sì? Tu vuoi quale esercito? Ah, non puoi far parte del nostro regno lesbo, hai capito? Sono autosufficiente. Ho degli amici. Ho degli amici. Ho degli amici importanti. Andrò a piangere da Ethan ogni volta che si presenta un problema. Patetica. Io intendevo Alicia. Sfigatone. Non ho detto questo. Era implicito. Che delusione. Cosa ti tento speciale è la tua nuova spada? Come fai a saperlo? Amici importanti. Boom, boom, bitch. È soltanto una spada. Allora, perché è così importante? Senti, sii sospettosa quanto vuoi. Non ti porterà da nessuna parte. Perché sei così compiaciuta allora? Era un regalo. È bellissimo e caro. Ecco perché sono compiaciuta. Non ti credo. Avvito a DG. Con te ho finito. Rosetta va via, lasciandosi più, lasciandoti più confusa che mai. No, no, ho capito tutto io invece. Quella lì la facciamo fuori subito. Quella sera trovi un altro messaggio sul tuo cuscino. Lo prendi con le mani tremolanti. Questa è la tua ultima possibilità per andartene. Non essere stupida. Vai via finché puoi. E... Accartocci il messaggio e prendi il tuo cellulare. Mamma, sei sveglia? È urgente. Ho ricevuto un altro messaggio di minacce. Oh, oh, cosa dice? Questa è la tua ultima possibilità per andartene. Non essere stupida. Vai via finché puoi. E... Chi può essere? Ma chi è che si firma? Vabbè. In questo momento è l'ultimo dei miei problemi. Cosa devo fare? Dovrei andarmene. Mai scappare per la paura. Ho fatto quell'errore. Devi difenderti. Ma la prova di spada è dom... È dom... È l'opportunità perfetta per mostrare a tutti ciò che sai fare. Infissali tutti come uno spiedino. Non so se sono abbastanza forte. So che lo sei. Scommetto che hai preso dalla tua vecchia ma... Eri una brava spadaccina. Assolutamente. La migliore del reame. Tutti dicono che di essere i migliori. No, ma... Migliore di Lady Rosetta. Oh, senza dubbio. Anche perché è una ragazzina in confronto alla madre. Allora... Suppongo di avere ciò che serve per abbatterla. Ecco la mia bambina. Ora riposati. Penserò a te domani. Ti voglio bene, mamma. Riposi il telefono. Stai racchiandoti. Posso farcela? Posso farcela? Ti rilassi per dormire. Pronta ad affrontare la prova di spada al mattino. Che figata. Abbiamo la prova di spada adesso. Sì. Capitolo 9. Lotta per la vita. Entra sul ring con onore ed esperienza. Ma Rosetta è un nemico spietato. Che piani malvagia in mente? Vai. Finalmente è la... Spero che sia la puntata... Quella più cool. Ah, cambiamo anche i vestiti. Attenzione. Sei stato ottenuto tre mosse. Godetevi un gameplay senza interruzioni. Ma cosa sta dicendo? È la mattina della prova di spada e Alicia ti sta aiutando a prepararti. Sei pronta? Come non lo sono mai stata, suppongo, amore mio. Puoi prendere la tua spada al piano di sotto. Ma prima penso che dovresti cambiarmi. Ok. Cosa c'è che non va con quello che ho addosso? Sei vestita? Io ti voglio tutta nuca. No, ti scherzo. Va bene per l'allenamento. Ma dovresti indossare i colori della tua casata. Ok. Immagino tu abbia ragione. Che vestito sceglierai? Oh my god, questo è la vita. È bellissimo. Voglio questo. Se no c'era questo, ma è bruttissimo. Questa è la vita. Fatto. Mi sento così forte in questo momento. E lo sembri anche. Grazie. Questo è il mio giorno. Me lo sento. Testa alta. Ce la farai. Grazie. Andiamo. Se moriamo in questo vestito è fantastico. Cioè, almeno moriamo con stile. Ti dirigi verso la sala d'ingresso, dove le lady si sono riunite per la prova di spada. Che bella giornata per vincere un combattimento con la spada. Nei tuoi sogni, peggio. Ho l'abitudine di trasformare i miei sogni in realtà. Vuoi vedere quella spada a cui eri tanto interessata? Rosetta rimuove la spada dal suo fodero e scintillante i regali, come dovrebbe essere una spada. Fa schifo. Non è magnifica. Va bene. Carina, non direi. Sei solo gelosa. No, mi fa caga. Se mi avesse tirato fuori una spada stile Signore degli Anelli, allora avrei detto che è una spada elfica o una cosa del genere. Ma durata, non ti fa schifo. Scusami. E' coperta di rubini. Non è nemmeno lontanamente intimidatoria. Non è la spada che fa paura. È la donna che la impugna. Allora sono fortunato che non mi fai paura. La vostra conversazione è interrotta dall'arrivo della regina. Benvenute, Signore. E' il giorno che tutti stavamo aspettando la prova di spada. Oggi mostrerete il vostro talento davanti ad un'intera corte e ti sconfiggerà davanti ad un'intera corte. E' 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 un'intera corte. Questo è un duello amichevole. No. E' un'intera corte. Orsi avvicinassi a voi. Buongiorno. Sono felice di avervi trovato prima del combattimento. Lady Antonio. Approvo. Hai visto la mia nuova spada? Johnathan. Impressionante. Lady Rosetta. Potevesti lasciarci soli un momento. Rosetta tirò su il naso. Non impressionata dall'essere stata stoppata Va bene Secondo me Lady Rosetta vuole fare tanto la mistress Quella che c'è l'attiva Quella comando io E poi invece fa il cagnolino del principe E lui fa il cagnolino anche della regina Si gira e si dirige verso il giardino con gli altri Il principe Jonathan sorride Sei nervosa di Antonio? No Per nulla Bene Devi essere sicuramente le tue capacità Lo penso anch'io Bitch Siamo casati oggi Hai fatto molta sfada in pochissimo tempo Tu fosti essere orgogliosa Grazie davvero Voglio solo che tu sappia che hai il mio supporto E anche il mio Speriamo entrambi ovviamente Speriamo entrambi vivamente che tu venga Dopo aver vinto due round Ascolti nervosamente i commenti di Ethan Un colpo di Lady Rosetta stende Lady Harriet prima che lo spettacolo possa cominciare Ora Lady Rosetta contro Lady Samantha Sarà uno scontro a darmi pari E Lady Rosetta vince dopo due minuti Non così alla pari come pensavo Come sta andando Lady Rosetta ha raccattato la sua seconda vittoria decisiva Questo la porta alla finale Contro di te Vedi Antonia Ti dirigi al centro del cortile Rosetta non è lontana Hai paura? Le tue ginocchia tremano Ma non cedi alle sue tappiche Ti piacerebbe? Sono calmissima Aspetta e vedrai Scruti il pubblico alla ricerca di amici Ah, stai cercando qualcuno per andare a piangere? Almeno io ho amici là fuori Peach Rosetta ringhia preparandosi per lo scontro Volevo andarci piano con te Ora non penso che lo farò Vi girate in tondo in maniera predatoria Iniziate Ora Rosetta prendisce la spada violentemente Cosa fai? Schiva Rendi il colpo Schiva Schivi la sua avanzata Facilmente Rosetta inciampa Bella mossa Sgraziata Aspetta e vedrai Siete allo stesso livello Rosetta fa un altro passo avanti Non mi batterai mai Contadina Devi smetterla di credere di essere migliore di me Ma sono migliore di te No Il tuo stato non ha importanza Qui si tratta di abilità Ti batterei per quanto riguarda l'abilità In ogni momento La lama di Rosetta taglia attraverso la tua tunica Ferendoti il braccio Ah no Mi ha rovinato il vestito Un atto crudele da parte di lei di Rosetta Ma lui fa la telegronaca Ricordate Questo è un incontro amichevole Con scavolo che lo è Il pubblico fischia contro Rosetta Distraendola per un momento Cosa fai? Lanciati contro di lei Mentre distratta ovviamente Usando la tecnica che ti ha insegnato Ethan Ti abbassi e ti rialzi di scatto Ia Premi la spada La spada È troppo avvincente E mi sto trovando divertente Che attura tu cosa ne pensi? Premi la spada contro il collo di Rosetta Prima che possa reagire Che cosa? Non ci sei cazzo La parola con la G Lady Antonia Ha Lady Rosetta in posizione letale Vince l'incontro Boom bitch I'm a bitch I'm a boss Rosetta indietreggia confusa Mentre accetti La vittoria Non posso crederci Il pubblico è in delirio Urlando il tuo nome Ma se hai concentrato su Rosetta Avresti potuto vincere il combattimento Alcune battaglie Vale la pena sacrificarle Non hai idea di cosa voglia dire Mentre la guardi allontanarsi Cosa sta succedendo? Congratulazioni Ce l'hai fatta È assurdo Stai bene? Sembro un po' arrossita Mi sento molto stanca Non dirmi che è già avvelenato Con la spada Oh no La tua mano si muove sulla ferita Al braccio Fuori del capogiro La di Antonia Non sembri tanto Prima che Ethan possa finire la frase Ti senti cadere La tua vista si Ti tradisce Colpisce il pavimento Tutto diventa nero Oh no È già avvelenato Abbiamo già finito i suoi capitoli Sì oddio Voglio sapere cosa succede Ne facciamo un altro Facciamone un altro Capitolo 10 La caccia La caccia E ad E C'è qualcosa di molto strano Nel modo in cui È finito il tuo match Alicia arriverà A soccorrerti in tempo Eh mi dispiace ma devo farne un altro Perché sono curiosa Cerchi di rimanere sveglia Ma diventa sempre più difficile Tenere gli occhi aperti Come mai Si è sentita male All'improvviso Sta succedendo qualcosa di rosco Me lo sento Questa spada Alicia Esamina il tuo braccio Dove è stato Punto dalla spada Punto Oddio Questa spada avvelenata Lo sapevo Chiamate un dottore subito Vado io Voi aspettate con lei Alicia va via Ethan resta con te Sembro molto preoccupato Ho paura Va tutto bene Sono qui con te Non credo Sì invece perché L'ha detto lei La rabbia prende il controllo L'improvviso Trovi la forza di rispondere A Ethan Reviewed Perché la stai difendendo Sai che sono qui per te Ma non voglio che la accusi Ingiustamente Scopriremo chi è stato Qualcuno mi vuole davvero morta Non faccio il polpettio Non lascerò che nessuno Ti farà del male Ti cureremo Improvvisamente il principe Jonathan Che cambia il nuovo nome Entra con il ruenz Scusami se non sono potuto venire per prima Mia madre non me lo permetteva Pensavo fosse essere stata avvelenata Il principe si incinò anche vicino a te Mi dispiace Mi ledi Non sapeva mai dovuto accadere Resta con me Va bene? Shhh Non ti lasceremo qui Avrai le miglior rigue possibili Mi sto a dormire Sono proprio Slotfing Adormi tanto Non c'è delle di Antonio Tristino a risvegliarti Mi ledi Perdi conoscenza Mentre il mondo intorno a te diventa nero Stai giocando come Alicia Siamo Alicia adesso Amico Cammini tranquillamente per il corridoio Attendendo notizie sullo stato della tua migliore amica Non posso sopportarlo Mi sento così inutile La mia migliore amica amante potrebbe morire nelle prossime ore Deve pensare positivo Alicia So che è dura Non è mai facile guardare le persone che ami soffrire Guardi Ethan con cautela Aspettando che dica qualcos'altro Non mi hai detto perché sei qui È successo qualcosa I miei genitori sono morti in un incidente ed auto quando ero piccolo Mi dispiace È detto che Cioè no Ma sopravviverò Deve essere stata dura Lo era Lo era Mi sono abituato a prendermi cura di me stesso È solo che Che Cosa Immagino di essermi abituato a prendermi cura solo di me stesso E poi ho incontrato lei Guardi la porta della stanza di Antonia Capisci che Ethan la amo Quando ho conosciuto Antonia Eravamo bambini Come vi siete conosciuti Eravamo all'asilo insieme E Antonia si avvicinò a me E siamo amici da lui Ah ok Che tu ci creda no Ero io Quello timido allora Ah erano due maschi Poi hanno cambiato Va bene Non ci credo Non essere così sorpresa Mamma mia Ciao Non posso farci nulla Sei sempre stato così sicuro di te Non allora Mi faceva paura tutto Cos'è cambiato? Antonia mi ha cambiato Mi ha dato la fiducia necessaria a fare tutto quello di cui avevo bisogno Perché noi ci amiamo Che cosa dolce Ogni volta che avevo paura Mi teneva la mano per calmarmi E mi offriva parole per incoraggiarmi Sei fortunata ad avere una così buona amica Come sua migliore amica Saresti d'accordo se fossimo assieme? Sì saremo gentili Ma la risposta vera è no Perché è mia Don't know La faresti? Certo Voi due sareste così carini assieme Ti sto trollando Sono così felice di avere la tua benedizione Ho talmente tanta pura di perdere anche lei Gli fanno abbassare la testa Gli dai una pacca sul braccio imbarazzata Lo supererà È forte Lo è Ha fatto tanta strada Te lo prometto Questo non è un addio Avrai la tua possibilità Grazie Alicia Ti sto trollando Significato Tutto questo è ridicolo Non posso stare qui ad aspettare Voglio scoprire chi è stato Chi è questo E Dovremmo perlustrare la camera da letto di Rosetta È troppo rischioso Se è stata lei sarà sicuramente in guardia Allora cosa dovremmo fare? L'unico posto che non ho controllato è il giardino Credi davvero di trovare qualcosa là fuori? Dobbiamo provare Bere Bere Antonia Bere cioccolato Antonia Hai ragione Facciamolo Alicia e Ethan Si ridicono Si dirigono verso i giardini del castello Alicia e Ethan Perlustrano le campagne del castello Alla ricerca di indizi Vorrei tanto sapere cosa stiamo cercando Attento Ci sono delle guardie Si accovacciano dietro ad un cespuglio Mentre le guardie li superano Perché ci stiamo nascostando? Abbassa la voce Ho delle spine che mi stanno pungendo i punti strani Non mi nasconderò mai più Non ci sbuglio Non sappiamo per chi lavorano le guardie Potrebbero lavorare per chi? Sta diventando tutto così intenso Ho sempre voluto essere in un film spionistico Ma ora non ne sono sicuro Le guardie sono finalmente lontane Ricominciano la loro ricerca Dove dovremmo cercare? Dove dovremmo cercare? Castello, labirinto Labirinto Nel labirinto del castello Se volessi nascondere qualcosa Non lo metterei sotto gli occhi di tutti Buona idea Andiamo a vedere Percorrete il labirinto A tentoni nel buio Avremmo dovuto portare una torce Ah Tutto questo è inutile Non si vede niente Tornate al punto di parte Che sta scontente Non abbiamo speranza Non abbiamo trovato nulla Torniamo dentro Aspetta Ho visto qualcosa Qualcuno Alle fontane Riesci a vedere chi è? No È troppo buio Bene Concludo qui il video Noi ci vediamo nella prossima puntata Vi lascio con la sorpresa E resto anche con la sorpresa E ci vediamo nel prossimo video Grazie per essere sempre in mia compagnia E al prossimo video Buonanotte Ciao Creatura